Le truppe francesi entrano a Diabali, la città nell'ovest del Mali che i ribelli islamisti avevano conquistato una settimana fa. L'aviazione di Parigi ha bombardato le loro roccaforti che sono state abbandonate prima dell'arrivo delle truppe di terra maliane e francesi. Il nostro inviato, al seguito dei soldati, ci racconta le operazioni per rendere sicura la città in cui potrebbero essere ancora serragliati dei commando ribelli. E' stato difficile rendere sicura questa città perché è circondata da una vegetazione molto densa in cui i ribelli si potrebbero nascondere. Poi la città di per sé è grande e gli sminatori sono già al lavoro cercando di controllare casa per casa che queste non siano state minate dai ribelli. Anche se i francesi sono entrati in città assieme ai maliani, non si può dire che la città sia completamente sotto controllo. Diabali è una città strategicamente fondamentale. Controllarla permette di assicurare il fronte nord-occidentale nel paese e la frontiera con la Mauritania, ma anche bloccare la temuta avanzata dei jihadisti sulla capitale Bamako.